l'egitto è senz'altro una delle mete che da sempre avrei voluto visitare ho avuto l'opportunità di farla e a questo aggiungo che soprattutto la crociera sul nilo era uno dei mie desiderata da tanti anni e la crociera fluviale soprattutto è qualche cosa di unico ti regala la possibilità di avere dei momenti di totale relax senza avere la bolgia intorno ti regala la possibilità di vedere dei colori dei paesaggi unici e al contempo di visitare dei posti magnifici unici al mondo non ci sono posti comparabili ma poi a prescindere cioè ti dà veramente l'opportunità di visitare quanto di meglio dal punto di vista dell'architettura si possa trovare e soprattutto in un contesto storico in cui sembra incredibile che siano riusciti a realizzare questi tipi di opere la crociera sicuramente consente di poterlo fare nel migliore dei modi questo è stato un viaggio veramente eccezionale non ha tradito minimamente le mie aspettative lo desideravo da tanto e devo dire che aver viaggiato con architravel per la prima volta è stato per me assolutamente una scoperta mi è stato consigliato e devo dire una persona che conoscevo anche solo superficialmente ma di cui mi sono fidata ecco la fiducia è stata assolutamente ben riposta vi ringrazio ancora e alla prossima a questo punto Grazie 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 Grazie